niente si si la presa va va si intensibile col binocolo c'è quasi la sensazione che si spiaccichi eh perché ti schiaccia si schiaccia è piccola si sembra che si schiaccia sotto la montagna eeeh eeeh dove fare a terra ma la vedo si comunque va giù e basta eh si 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 un bel modo per entrare a valle e quando ci avranno messo sette protesi ormai diranno guarda non c'è più niente da mettere l'esperitone è ancora lì che su la sua eh si ma cioè in due minuti è giù eh meno eh si fa una gran planata si fa una gran planata e la terra in piazza è 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